Nicola, lo sapete, lo sapevo che ci sarei riuscita, ho fatto il miracolo. Con permesso, infermiera! Grazie a tutti, grazie. Sono qui perché Alex Leone ha veramente un coraggio da Leone. Mi ha chiesto di credere in un sogno e io l'ho fatto. Non permettete a nessuno di farvi rinunciare ai vostri sogni. Ora fatemi sentire il vostro canone per Alex! E soprattutto, fatemi sentire il vostro calore, forne qui. Quello che appena ha successo è davvero incredibile, fatemi sentire! Purtroppo non è previsto da regolamento che concorrenti duettino con delle celebrità. A malincuore, Alex Leone è eliminato dalla gara. È giusto, è giusto, è giusto. Questa sera ho capito che nulla è impossibile. Perché davvero, davvero, l'universo ti restituisce ciò che dai. E non è soltanto il verso di una canzone, credetemi. Alex Leone! Alex, per te è urgente. Grazie. Pronto? Ciao, Alex. Sono io, Nicole. Nicole? Nicole, sei tu? Arrivo subito, amore. Subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.